E' andato in scena ieri al Teatro Eschiro di Gela il gran concerto di Natale denominato Il mondo che vorrei su iniziativa della FARC coordinata a Gela d'Angela Lobello in collaborazione con i giovani dell'Oratorio Salesiano. L'evento culturale è stata preziosa occasione di socializzazione dedicata ai malati oncologici e alle loro famiglie per vivere insieme la magia natalizia. Questa appunto è la FARC, l'associazione di volontariato che opera in oncologia. Questo è il quarto anno che noi facciamo uno spettacolo di Natale per augurare un buon Natale ai tutti i pazienti oncologici e anche allo staff di oncologia per il lavoro grande che facciamo assieme perché ormai da un po' di anni siamo una squadra e diciamo anche una squadra vincente perché oggi è Gela, veramente si può parlare di tumore, si può parlare di cultura e questa è una delle grandi dimostrazioni che comunque qualcosa di concreto si fa.